Signori, buonasera, Luca di approcciala.it, diretta numero 27 Oggi si fa domande e risposte, attendiamo che la gente si colleghi Ho appena provato a fare una live di 30 secondi su YouTube per vedere se magari dalla prossima volta potrei magari farla in contemporanea sia su Facebook che su YouTube, così chi guarda da YouTube non se le guarda indifferita Comunque, vediamola magari la prossima volta, cioè ho giusto fatto una prova adesso, due secondi fa Quindi per chi guarderà poi indifferita da Facebook, dalla pagina Facebook o dal canale YouTube se vuoi guardare questi video in diretta bisogna accedere al gruppo Facebook di cui trovi il link Ok, l'audio funziona Ok, io controllo anche da desktop se funziona tutto Bene, Gabriele è come sempre presente Ciao Hermes, ciao Gabriele, ciao Massimo, ciao Mino Buonasera signori Domande e risposte, quindi se avete domande iniziate a scriverle Ce ne sono circa una decina, 15 domande forse che sono state fatte la volta precedente quindi rispondiamo alle domande della volta precedente più quelle nuove Quindi per chi guarda indifferita da Facebook o da YouTube clicca sul link in descrizione per accedere al gruppo Facebook per chi guarda adesso dal gruppo Facebook in live oppure per chi guarda indifferita per fare le domande ci sono i post che metto ogni settimana per fare le domande eccetera 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 Ciao Fabio, chi è collegato? Cliccate in basso sinistra, c'è scritto condividi o share e condividete questa diretta con la gente che è nel gruppo quindi potete invitare non i vostri amici cioè non vi fa invitare i vostri amici esterni al gruppo che non c'entrano niente vi fa invitare la gente che è nel gruppo la invitate a collegarsi nella diretta Ciao Carlo Per chi poi avesse domande sui corsi poi lo vediamo alla fine però se avete domande scrivete all'assistenza clienti il numero è 351-646-6774 gli iscrivete via Whatsapp tutte le informazioni sui corsi sono sul sito www.approcciala.it Bene, partiamo con le domande chi avesse domande intanto può iniziare anche a scriverle tanto oggi ci facciamo la chiacchierata ormai le dirette sono un po' un salotto televisivo così quindi, ciao Daniele Daniele credo ci sia una tua domanda sono quasi tutti anonimi però se non sbaglio ho visto una domanda da qualcuno che si chiama Daniele magari sei te, non lo so allora, domande di settimana scorsa vado in ordine di come mi sono state fatte allora, Anonimo chiede consigli per curare il proprio look e non sembrare degli straccioni allora, le ho già lette prima quindi un po' mi sono già segnato qualcosa allora, consigli per curare il proprio look e non sembrare degli straccioni non metterti la tuta non uscire con le scarpe da corsa quindi quando vai a conoscere le ragazze non andare con la tuta non andare con le scarpe da corsa cioè le scarpe da corsa fondamentalmente poi al fine sono consigli di buon senso non è che chissà che cosa capelli in ordine, barba in ordine non è niente di che basta avere il buon senso e comunque nel videocorso che uscirà a marzo c'è anche una parte sul come impacchettarsi sì, l'ho chiamata cioè non è proprio una lezione è una parte dentro una lezione sul come agganciare la ragazza e c'è proprio la parte sul come impacchettarsi in modo da essere percepito più di alto valore fra le varie cose sul come impacchettarsi c'è anche un discorso abbastanza breve riguardo al look ciao Fabio signori invitate la gente cliccate tanto non vi vede nessuno dei vostri amici fuori dal gruppo cliccate, condividi e invitate la gente che è nel gruppo che è a fare che oggi è la Befana che cazzo santo ti ha a cazzeggiare altro anonimo chiede ma le tecniche di seduzione americane ne sono applicabili anche sul suolo italiano? allora non ci sono tecniche di seduzione americane o italiane c'è come funzionano le dinamiche fra uomo e donna non ci sono le tecniche di seduzione italiane o americane quindi sì funzionano poi qualcuno ti dice qualcuno te le vende appunto ti vende la tecnica 100% italiana oppure ma non esistono ok? sono semplicemente le dinamiche che ci sono fra uomo e donna ok? non c'è nessuna differenza fra americane o italiane ok? ci sono differenze, diciamo, accorgimenti a livello appunto diciamo di comportamenti ai quali rispondono le ragazze oppure a seconda del paese ci sono diverse pressioni sociali ok? con le ragazze di nazionalità russa per esempio è un po' più improbabile andarci eletto al primo appuntamento perché? per una questione di pressione sociale giudizio sociale quindi ci vuole un po' di più di tempo poi magari rispondono ad alcuni comportamenti in maniera diversa rispetto magari a una ragazza americana o italiana o tedesca ok? ci sono degli accorgimenti diversi da paese a paese ma non che le tecniche sono diverse ok? le dinamiche sociali fra uomo e donna sono quelle non cambieranno mai mi ricordo di un seminario al quale sono stato ormai due anni fa forse anche di più e il tipo che era lì al seminario che era uno che insegna da praticamente 20 anni adesso infatti non insegna più ormai ha raggiunto circa i 50 anni adesso non insegna più e praticamente lui ha esordito dicendo che il business attorno al mondo del game è cambiato in questi 20 anni ma le dinamiche fra uomo e donna sono sempre rimaste le stesse ok? non cambiano ok? in un altro corso che avevo fatto un po' di tempo fa un po' 4 anni fa circa che diceva che quello che l'attrazione era millenni fa è tuttora oggi ok? le dinamiche fra uomo e donna non cambiano ok? quindi non ci sono tecniche americane o tecniche italiane chi avesse domande potete scrivere allora altro anonimo chiede no, scusa sì altro anonimo chiede alcune ragazze sono consapevoli di essere belle oppure anche loro si sottovalutano alcune sono consapevoli altre si sottovalutano è tutto nella norma niente di speciale altro anonimo chiede come possiamo fare per approcciare in libreria senza sembrare invadenti approcciando in libreria essendo invadente e capendo poi dov'è il confine quindi all'inizio sarai per forza un po' scalibrato quindi approcciando ed essendo magari un po' invadente lo capisci poi dopo inizi a calibrare un po' di più magari non so sei in grado di leggere meglio la sua reazione quindi riesci a come dire appunto calibrare meglio oppure a fare una precalibrazione diciamo adesso infatti nell'approcciare nei posti al chiuso io consiglio di metterci una cosiddetta precalibrazione dicendo alla ragazza ciao guarda so che non è il posto più adatto però ti ho vista mi sembra di carina eccetera quindi metterci questa precalibrazione quindi questo qua è il modo poi però lo impari con l'esperienza come non essere invadente all'inizio sarai magari un po' invadente poi dopo non lo sai più magari magari lo sai troppo poco però comunque devi andare lì e parlarle ok ciao Yuri quindi lo impari con l'esperienza però all'inizio non cercare di farlo di farlo nella maniera più diciamo non so come dire di passare più sotto i radar possibili perché non devi passare sotto i radar devi comunque andare lì e parlarle ok questa probabilmente non probabilmente sono tutte cose che ci sono sempre nella testa la sto disturbando sono invadente magari sta facendo qualcosa di importante magari no magari in un periodo in cui sta cercando un ragazzo cosa ne sai ok sono cose che succedono tutti i giorni quindi le ragazze ci sono ragazze una miriade di ragazze che sono alla ricerca di un ragazzo altrimenti non sarebbero non ci sarebbero le applicazioni incontri quante ragazze sono sulle applicazioni incontri ok ci sono un sacco di ragazze che cercano un ragazzo che cercano solo sesso ok quindi non ti preoccupare del essere invadente ok le stai creando la possibilità per lei di conoscerti vedila anche in questo modo diverso sono tutti modi di pensare che poi ti producono azioni diverse che ti fanno ottenere risultati diversi ma se tu vai lì pensando no la sto disturbando andrai lì in un atteggiamento molto meno predisposto all'ottenere un risultato ok chi ha queste domande potete scriverle vediamo se da desktop ok tutto ok perfetto andiamo avanti ah qua c'è la domanda di Daniele Daniele se sei collegato se sei ancora collegato batti un colpo allora Daniele chiede buonasera Luca se non sbaglio in una live hai detto che approcci principalmente ragazze straniere lo fai perché secondo la tua esperienza è più probabile arrivare alla chiusura oppure perché ritieni le ragazze straniere più attraenti a livello estetico e o interessanti caratterialmente sicuramente le trovo più interessanti a livello caratteriale e anche più belle ragazzi non lo so secondo me un sacco di persone si prendono per il culo cazzo andate a guardare le ragazze russe come fate a dire che una ragazza prendete magari una supermodella magari russa e magari una supermodella italiana non so un sacco di persone secondo me si prendono per il culo su questo discorso c'era una volta avevo avevo era in un libro di un istruttore che ha passato 5 anni a girare i paesi dell'est Europa e a fare dei game quindi approcci per strada per 5 anni nei vari paesi dell'est Europa e nel capitolo sulla Russia spiegava c'è tipo un detto russo che se non sbaglio era la bellezza è soggettiva però i casting di Victoria's Secret non sono d'accordo quindi l'estetica il volto est europeo è quello che viene preferito nell'ambito moda ok non è un caso quindi io personalmente le trovo le ragazze est europee più belle delle ragazze italiane anche a livello caratteriale un sacco di ragazze di altri paesi le trovo più interessanti a livello caratteriale poi attenzione non prendete questa cosa come le italiane allora fanno schifo non vanno approcciate perché poi tanti la prendono così e dicono le italiane sono stronze sono difficili non lo so tutte le cose più possibili che però poi ti portano non approcciare ragazze italiane io vorrei ricordare che agli inizi approcciavo solo ragazze italiane perché non sapevo l'inglese ok poi quando ho imparato l'inglese ho scoperto che ci sono altri 193 paesi o 194 paesi nel mondo ok quindi semplicemente poi ho esplorato un po' ho esplorato molto meglio il cosiddetto menu ok però finché non imparate l'inglese siete confinati a diciamo all'osteria che avete sotto casa invece imparando l'inglese avete diciamo tutti i ristoranti del mondo che potete assaggiare ok insomma anche un buon esempio questo qua quindi sì cioè non è una questione di sono più facili più difficili ok nel momento in cui sei capace qua in Italia sei capace ovunque ok di solito chi dice che di solito chi dice che le ragazze all'estero sono più facili di solito sono persone che sono sono sfigate non hanno esperienza non hanno non hanno risultati ok e comunque aspetta sto leggendo la domanda se non sbaglio l'avevi detto quindi niente prova quindi Daniele sto rispondendo alla domanda di Daniele prova con ragazze di diversi paesi in modo che capisci anche quali sono le ragazze che ti interessano di più perché fondamentalmente questo qua c'è un capitolo nel videocorso che uscirà a marzo su come definire e attrarre il proprio tipo ideale di ragazza e lì proprio spiego che il tuo tipo ideale di ragazza non è quello che pensi tu è quello che ti hanno messo in testa io quando ho iniziato con appunto l'approccio alle ragazze io pensavo che mi interessassero le ragazze italiane spagnole perché mi avevano detto che le spagnole erano simpatiche e che poi comunque confermo e poi mi interessano le ragazze della mia età o leggermente più piccole questo è quello che pensavo io agli inizi a oggi avendo testato diversi migliaia migliaia di approcci posso dire che il tipo di ragazza che mi interessa è esattamente l'opposto non italiane e più grandi di me ok quindi il tipo di ideale di ragazza che pensate vi piaccia potrebbe non essere quello che in realtà vi piace semplicemente perché non avete esplorato e testato quindi c'è questo capitolo nel mio videocorso uscirà a marzo però ancora non è pubblico il videocorso potete iscrivervi alla lista attesa andando su www.approcciala.it la prima cosa che vedete c'è un pulsante per iscrivervi alla lista attesa in modo che venite notificati quando esce il videocorso probabilmente sarà marzo 2020 o forse no chi lo sa ciao Gianni ciao Alberico ciao Onofrio ciao Fatmir ciao Sergio e abbiamo una domanda di Hermes adesso leggiamo la domanda di Hermes signori condividete la live tasto in basso sinistra share condividi invitate la gente del gruppo a collegarsi Hermes chiede domanda un po' tecnica quali sono gli step o il sistema che tu solitamente segui dall'approccio per arrivare alla chiusura esempio far investire far qualificare guarda caso c'è il videocorso se vai dove c'è la lista attesa al videocorso tutti i vari capitoli sono esattamente gli step che stai chiedendo in questa domanda ok quindi c'è l'approccio poi c'è l'impostare correttamente l'interazione quindi impostarla non sto a spoilerare quello che ci sarà dentro la lezione si chiama come impostare correttamente l'interazione quindi non vi sto a spoilerare quello che c'è all'interno poi c'è agganciare la ragazza chiederle le logistiche quindi capire se è libera o occupata poi dopo da lì si apre o il stand date oppure prendere il numero e rivederla per l'appuntamento quindi facciamo poi c'è l'istand date seconda location poi magari anche una terza location se serve e poi a casa la porti a casa e poi continui l'escalation fisica fino al sesso oppure magari potrebbero esserci delle resistenze dell'ultimo minuto e superi e arrivi al sesso quindi questa qua è la corrente dell'istand date la corrente del prendere il numero poi appuntamento poi magari servono altri appuntamenti poi la porti a casa e poi quindi è tutto descritto lì nel videocorso se vai dove c'è la lista attesa vedi proprio passo dopo passo è una mappa quella se te la potresti anche proprio disegnare è una mappa quindi l'ho appena spiegato farla investire farla qualificare quello è spiegato nella lezione se non sbaglio sul farla qualificare sul come prendere il numero perché il farla qualificare appunto rende molto più solido il numero comunque è tutto lì all'interno del videocorso se vai dove c'è la pagina dalla lista attesa vedi proprio tutto la procedura la chiamiamola tecnica ok andiamo giù c'è Andrea R non dico i cognomi per privacy c'è Andrea R collegato incredibile allora vediamo un po' Gabriele chiede vediamo che dice Gabriele cosa ne pensi le ragazze che si sentono superiori agli uomini avendo un ego pompato però poi se ci esci non sono interessanti come se loro sono le regine e il loro compito è solo scegliere senza contribuire completamente alla conoscenza niente non ne penso niente semplicemente non ci esco lo vedo se magari ne approccio una per strada lo vedo che non è interessante semplicemente non prendo neanche il numero quindi non c'è niente da pensare ognuno può fare quello che vuole della propria vita semplicemente io non ci esco magari non le chiedo neanche il contatto se vedo che non è interessante se vedo che è una che non lo so magari non lo so non lavora neanche esce la sera obbriacarsi si fa le canne così non è interessante per me semplicemente se vedo che è una delle volte mi capita che approccio ragazze siccome ne approccio migliaia e migliaia già lo vedo ho l'intuizione magari vedo che è una che è un po' stupida e le chiedo scommetto che le dico scommetto che vai molto spesso in discoteca e lei mi fa si come fai saperlo e lo vedo ha il cervello danneggiato e quindi semplicemente poi non non ci faccio niente non le chiedo il numero me ne vado via ho un sacco di miei video filmati con il cameraman dove me ne vado via io e ne ho tanti perché ma questo qua lo potete fare più avanti ok la cosa del selezionare fatela più avanti più avanti più avanti se il mese scorso non siete andati a letto con almeno una ragazza dai approcci per strada non fate questo discorso del selezionare troppo fate più esperienza possibile vediamo ciao Aurele buonasera allora Andrea R se hai domande esistenziali sul game fai pure domanda di anonimo che si è firmato come Thomas Turbato questa qua quando l'ho letta prima il nome ho detto questa vuole fregarmi live però siccome mi sono già fregato prima leggendolo comunque che fantasia allora Thomas Turbato chiede negli appuntamenti ho problemi chissà perché hai problemi Thomas allora riprendiamo la serietà allora chiede negli appuntamenti ho problemi quando devo salire a casa della ragazza hai esperienza in questo e se sì puoi parlare degli step per farlo inoltre quando lo fai chiedi logicamente alla ragazza se ti fa salire o dai per scontato che ti fa salire e ti limiti a fare il leading allora guarda caso nel videocorso che uscirà a marzo c'è esattamente il capitolo come andare a casa della ragazza quindi si iscriviti alla lista attesa se non sei iscritto allora sì sono parecchio esperto di questa cosa sono diciamo esattamente io insegno proprio esattamente questo quindi come si portano le ragazze a casa cosa che la maggior parte quasi tutte le scuole di seduzione in Italia non sono capaci di insegnare adesso pare che il livello si stia un po' alzando a seguito di alcuni miei video adesso alcuni stanno iniziando a postare qualche risultato in più a seguito dei miei video quindi il livello si sta un po' alzando a quanto pare però fondamentalmente ci sono sei principi non te li posso spiegare qua tutti e sei perché esattamente è esattamente il valore aggiunto che c'è in quel videocorso ovvero che c'è la parte sul come portare la ragazza a casa spiegata in ogni minimo dettaglio senza dare nulla per scontato sono esattamente sei principi veramente secondo me potrei vendere il videocorso solo con quella lezione e varrebbe il prezzo comunque come si fa? bisogna innanzitutto fare un lavoro in precedenza cioè non è che a un certo punto la porti a casa così dal nulla c'è da fare un lavoro in precedenza per esempio il discorso del seminare quindi non è che tu devi andare a casa con lei che appunto dicevi se le chiedi logicamente alla ragazza se ti fa salire o dai per scontato che ti fa salire non devi arrivare a quel punto in cui sei sotto casa di lei e le chiedi se puoi salire con lei non devi arrivare a quel punto devi quando siete nella location dell'appuntamento degli stand date quello che sia iniziare a seminare se appunto tu non hai logistiche se appunto non puoi portarla a casa tua oppure logistiche in tuo controllo devi seminare degli scenari ipotetici di attività che potresti fare a casa di lei quindi magari a un certo punto in maniera contestuale in maniera nonchalance durante l'interazione inizi a buttare dei cosiddetti semi quindi le dici magari non so le chiedi sai cucinare la pasta magari lei ti dice di sì e le dici ah magari poi dopo possiamo cucinare insieme della pasta senza neanche dirle a casa di lei ok però inizi a piantare nella sua testa l'idea che poi dopo potrebbe esserci un seguito a casa ok poi dopo quando fai l'invito l'invito non è una cosa che salta fuori dal nulla ok oppure magari non so le chiedi se le piace il vino bianco il vino rosso non so e le dici magari poi dopo ci possiamo bere un bicchiere di vino di vino rendelo specifico magari dopo possiamo berci un bicchiere di vino rosso e magari siete nella seconda location già o magari siete a un appuntamento quindi inizia a piantare scenari di attività che potreste fare dopo ok questi scenari servono uno per per iniziare a seminare nella sua testa l'idea in modo che poi quando le fai l'invito non è una cosa uscita da nulla due anche per iniziare già a vedere la sua reazione in modo che quando poi se vedi che lei ti risponde in maniera un po' stranita non esattamente responsiva capisci già che magari è meglio non farle l'invito magari è meglio lavorare un po' di più sull'interazione creare più attrazione più comfort stare più tempo con lei magari fare una location in più quindi il seminare ti fa vedere anche se poi ti dirà di sì o di no all'invito che comunque le ragazze non dicono di sì all'invito ma questo è spiegato all'interno del videocorso comunque e poi nel momento in cui hai seminato questi scenari quando c'è da fare l'invito le fai l'invito l'invito è una cosa che non esiste a livello mondiale potete provare a cercarla non la troverete l'invito sul portare una ragazza a casa l'invito è spiegato nel videocorso va fatto in base a quello che hai seminato ok non lo posso spiegare in dettaglio perché è spiegato nel videocorso però non devi arrivare sotto casa così a caso devi arrivare sotto casa di lei che sapete già che state andando a casa ok quindi quando sei nella location dell'appuntamento degli stand date devi fare un invito che include quello che hai seminato il tecnicismo dell'invito non te lo posso dire qua in modo che sapete sai già che state andando a casa ok quindi non cioè non fare l'errore di non seminare e sperare perché non funziona così poi può funzionare lo stesso mi ricordo di un appuntamento che ho fatto con una strafiga un po' di anni fa che mi ha portato lei a casa sua e io non ho dovuto fare presente nulla sì stavo andando a casa di lei però mi ci sono ritrovato praticamente per casuali però non è non succede così spesso ok c'è da fare delle cose specifiche ok i sei principi comunque sono spiegati all'interno del videocorso quindi siccome è la parte più importante quella del videocorso non te la posso chiaramente spoilerare qui live però se diciamo vuoi avere già accesso a questi sei principi sono già spiegati all'interno dell'audiocorso che viene dato come bonus a chi partecipa ai corsi al vivo quindi se vuoi fare magari un corso di due giorni ti viene dato l'audiocorso che contiene già quei sei principi o se no ci puoi fare magari una consulenza di un'ora per il corso vai sul sito o per la consulenza scrivi all'assistenza clienti via whatsapp il numero è 351-646-6774 e direi che su questo abbiamo detto anche troppo allora ciao Giovanni buonasera signori se avete domande scrivetele e fate condividi basso a sinistra condividi share invitate la gente del gruppo che è a mangiarsi ancora il panettone allora Anonimo chiede contrariamente a quanto tanti coach dicono tante ragazze non sono chiudibili dal primo appuntamento come pianifichi il secondo o il terzo appuntamento se non le porti a letto al primo ti limiti a fare tutti gli appuntamenti uguali o le porti anche a fare cose originali divertenti ma economiche tipo il luna park bowling go kart concerti sala giochi allora io finché non ci vado a letto non faccio robe strane quindi miei appuntamenti caffè drink aperitivo basta no cena no cinema non fate robe strane Yuri non fare gli appuntamenti dove le porti a fare le foto insieme porca una troia lo puoi anche fare magari dopo però mettete appuntamenti normali non fate robe strane perché poi facendo robe strane non si fa non c'è contatto fisico non c'è diciamo una comunicazione facilitata quindi andate in posti chiedetevi sempre la location dell'appuntamento facilita il contatto fisico e facilita la comunicazione si o no se non ci sono questi requisiti la location non è buona per l'appuntamento quindi non so il luna park il bowling che cazzo di location è il bowling lo puoi fare magari come attività aggiuntiva magari fate il fate il secondo appuntamento vi bevete un caffè di pomeriggio magari sei magari sei anche già arrivato al bacio però non fate robe strane io vi sconsiglio di farle proprio a prescindere queste robe strane appuntamenti in posti strani potete farli dopo che ci avete fatto sesso ci sono alcuni che consigliano di fare appuntamenti strani magari come secondo appuntamento terzo appuntamento però dovete capire che facendo appuntamenti strani se non siete esperti non siete in grado di mantenere l'attenzione sessuale non siete in grado di appunto fare contatto fisico che appunto poi è quello che crea anche l'attenzione sessuale quindi non complicatevi la vita appuntamenti normali caffè drink aperitivo non fate cene ok la cena dopo il sesso quantomeno nella mia esperienza è quello che vi consiglio a voi e quando dico mia esperienza non intendo solo mia intendo anche di chi ha fatto i corsi e ha avuto risultati ok quindi non è solo mia per esempio vi porto questo esempio qua c'è un ragazzo che conosco che non so neanche dove insegni uno che credo che insegni tipo in Sudafrica che però è molto competente questo ragazzo qua è uno che insegna e praticamente lui ha fatto un secondo appuntamento ha portato la ragazza a fare l'immersione con gli squali senza però ancora averci fatto sesso poi chiaramente è anche riuscito a chiudere al secondo appuntamento però porca troia è uno che insegna è uno che è esperto perché appunto fare questi appuntamenti chiamiamoli strani fare esperienze ad alto impatto emozionale è molto utile per poi arrivare a una chiusura ok per questo sono utili magari gli appuntamenti in questo modo ma non fatelo se non siete esperti ok direi che come gestisco io io fondamentalmente ho quattro location che mi giro a seconda delle occasioni e ho una location per diciamo ho una prima location e poi ho tre seconde location una di queste seconde location la utilizzo delle volte anche come terza location è una roba fa parte del piano logistico nella lezione sul piano logistico che c'è nel videocorso è spiegato tutto nel dettaglio ho proprio anche disegnato la mappa del piano logistico e quindi io ho quattro location che me le giro a seconda delle occasioni a seconda dell'appuntamento se è il primo secondo o terzo a seconda delle esigenze quindi se devo prendere un drink un caffè un trancio di pizza a seconda dei giorni della settimana a seconda degli orari quindi a seconda di qual è l'occasione scelgo una di queste mie quattro location ok però vanno decisi a tavolino è tutto spiegato nella lezione del piano logistico poi abbiamo un altro anonimo che si è firmato come Pippo Baudo che chiede nella tua esperienza e quelle dei tuoi studenti le ragazze russe e ucraine e conservative dopo quanti appuntamenti riesce a portarli a letto allora come ho già accennato prima e ho detto anche altre volte le ragazze russe e ucraine più che altro russe è abbastanza improbabile andarci a letto al primo appuntamento poi non che non si possa fare ma la maggior parte di volte non succede ok per appunto quel discorso che spiegavo prima di una pressione sociale differente ok a seconda del paese ma le dinamiche fra uomo e donna non cambiano ok sono sempre quelle poi a seconda della pressione sociale da paese a paese ci sono delle differenze come in questo caso nei paesi appunto est europei molto la russia è abbastanza improbabile andare a letto con una ragazza al primo appuntamento ok o anche magari il fare un approccio per strada e ci vai a letto il giorno stesso sono cose molto molto improbabili non che non succedano però è molto molto improbabile quindi nella mia esperienza e quella degli studenti al primo appuntamento quasi mai di solito al secondo appuntamento terzo appuntamento massimo al quarto appuntamento ok parliamo di ragazze diciamo che non sono neanche troppo flippate mentalmente che non sono che non hanno perché ci sono alcune ragazze che veramente hanno molte barriere mentali appunto dovute alla pressione sociale del loro paese che veramente è un calvario cioè una cosa assurda andarci a letto magari e hanno anche magari poca esperienza perché appunto avendo molte barriere mentali non hanno mai fatto esperienze con altri uomini oppure molti pochi e quindi hanno molta poca esperienza di conseguenza devi aspettare più tempo per andarci a letto cioè non c'è modo non ci riesci ok uno studente che mi aveva mandato uno screenshot qualche settimana fa che è riuscito ad andare a letto con una ragazza russa molto molto figa però mi diceva al quarto appuntamento ok quindi io ti direi massimo al quarto appuntamento quindi l'esperienza mia e di studenti quindi massimo al quarto appuntamento di solito secondo terzo appuntamento ok più raramente al primo appuntamento io però personalmente di solito lascio anche molto prima perché non mi interessano ragazze che hanno poca esperienza difficoltà col contatto fisico barriere mentali non mi interessano ho fatto un paio di appuntamenti con una ragazza un po' di un paio di mesi fa che è molto molto figa russa e ho fatto di stand date di due ore già lì ho fatto il contatto fisico tutto perfetto però non si faceva baciare ho detto ok ci può stare andiamo al primo appuntamento primo appuntamento ho fatto tutto perfetto non si faceva baciare lì l'ho mandata a cagare non la volevo più rivedere mi ha scritto lei il giorno dopo supplicandomi di rivederci per chi poi prenderà il videocorso ci sono questi screenshot della chat questo esempio ho spiegato molto meglio nel dettaglio perché è molto interessante quando poi respingi la ragazza è lei che insiste per vederti comunque ci sono ci sono i screenshot di questa chat nel videocorso e io ho detto ok dai io non la volevo più vedere perché sapevo già come far sarebbe finita che appunto lei non avendo esperienza è un problema questa cosa però ho detto vabbè andiamo lo stesso vado al secondo appuntamento ho saluto al bacio ma è stata una roba che non ne per niente valsa la pena perché appunto lei non aveva molta esperienza anzi secondo me non aveva proprio esperienza e un bacetto a stampo così una roba che ci ho perso due appuntamenti più gli stand date 6-7 ore di conoscenza per più i soldi anche spesi per gli appuntamenti per un bacetto da schifo non ne vale la pena personalmente per me poi chi vuole vada anche attraverso il terzo quarto appuntamento per poi anche andarci a letto nella mia esperienza non ne vale la pena per me ok poi ognuno faccia quello che vuole però questa cosa qua del selezionare così tanto dell'essere così selettivo dell'avere dei confini fatela dopo fatela dopo io lo faccio perché l'ho spiegato anche nel video corso nella lezione sull'istand date sul fatto che io non porto una ragazza nella seconda location dell'istand date se nella prima location non diciamo non l'ho vista sufficientemente aperta estroversa e ok con il contatto fisico perché l'ho fatto così tante volte ci ho perso così tanto tempo così tanti soldi siccome non è che ne faccio pochi ho fatto il bilancio del 2019 poi io riseguo ti mando il bilancio del 2019 totale lo mando solo a chi conosco e ho fatto il totale di quanto ho speso per gli appuntamenti quest'anno aspettate ce l'ho qua forse 2019 ho fatto il bilancio appuntamenti con ragazze 998 euro 23 centesimi per appuntamenti solo appuntamenti con ragazze ok fra caffè di qua drink di là non perché faccio cene costose o posti costosi anzi è che sono tanti fra i stand di qua caffè di qua drink di là drink di su drink di giù sono 900 mille euro in un anno fra appuntamenti quindi chi ha queste domande può scrivere io qua abbasso il riscaldamento perché fa veramente caldo 7 domande scrivete poi abbiamo un altro anonimo che si è firmato come tinky winky che chiede molte volte mi succede durante gli appuntamenti che riesco a connettere molto bene con la ragazza parliamo di cose molto profonde intelligenti la traggo da bravo ragazzo ma non riesco a diventare il ragazzo con cui lei parla di cose semplici ma che la fa anche eccitare a volte penso che questo rapporto profondo piaccia comunque alle ragazze ma causa che loro posticipino il sesso con me hai magari qualche consiglio per evitare questa cosa si guarda caso tutto spiegato nel videocorso c'è una lezione sul che ho chiamato la sindrome del bravo ragazzo c'è una lezione che ho spiegato prima su come impostare correttamente l'interazione per impostare un'interazione che sia uomo donna e non amico amica tutte le domande che fate siccome ho parecchia esperienza le risposte le troverete già all'interno del videocorso quindi poi uscirà a marzo peccato che non sia già pubblico tutte le risposte potete dire prendi il videocorso prendi il videocorso prendi il videocorso perché è già tutto quindi fondamentalmente troppo bravo ragazzo dici che altro quindi sicuramente sicuramente manchi di fare contatto fisico classico quindi quando diciamo parlate di cose profonde e finisci troppo nella categoria bravo ragazzo di solito è una mancanza di contatto fisico poi ci sono tante di cose non a caso c'è una lezione di due ore su sta cosa qua nel videocorso lezione di due ore sulla sindrome del bravo ragazzo quindi contatto fisico poi dove fai gli appuntamenti quindi l'ho già spiegato prima una buona location deve facilitare il contatto fisico e la comunicazione ma più che altro il contatto fisico perché se fai l'appuntamento siete seduti frontali per tutto il tempo non c'è modo a meno che non sei esperto e magari riesci diciamo a comunicarle molto intento a farla diciamo non so come dire eccitare creare quell'atmosfera di elettricità di attrazione lo riesci a fare magari anche semplicemente con la conversazione però a un certo punto cioè ci deve essere il contatto fisico quindi questa qua sicuramente è una cosa che al 100% sbagli perché la sbagliano per ente tutti quindi il contatto fisico e poi a livello di conversazione non fare conversazioni iper profonde che ci può stare ma deve essere bilanciato anche dal cosiddetto flirt ok quindi per esempio il fraintendere è un diciamo un ottimo modo per flirtare con la ragazza quindi quando lei ti dice qualcosa cerca di fraintenderla in modo magari un po' provocatorio in modo non so per esempio un po' di giorni fa ero con una ragazza che qua ci sono i mercatini di Natale a Milano e lei stava sciendo un cappello dalla bancarella cioè l'avevo già approcciata prima e praticamente lei stava sciendo un cappello e ha detto oh che carino e io le ho detto me o il cappello ok quindi questo qua sono tutte cose per fraintendere ok quindi questo qua è una delle dinamiche del flirt e il parlare di relazioni è un'altra cosa che puoi utilizzare per controbilanciare il parlare di cose troppo profonde ok perché altrimenti poi finisci troppo nella categoria bravo ragazzo diventi diciamo il suo non so come dire il suo psicologo ok quindi parlare di relazioni è molto utile per portare la conversazione più sul piano uomo donna e non psicologo paziente ok quindi non so magari chiederle quanto tempo fa è stata la sua ultima relazione chi ha lasciato chi non so quante relazioni hai avuto in passato sono tutte cose che poi sono descritte nel nel videocorso però queste cose qua ti aiutano e poi chiedere queste cose riguardo alle sue relazioni passate che occhio che è una cosa che diciamo nei film e le serie tv insegnano che è sbagliata non bisogna mai parlare dei propri ex attenzione mai parlare degli ex mai chiedere delle relazioni passate è una stronzata ok guarda caso chi poi segue queste dinamiche non ottiene risultati che comunque si possono si può parlare ci sono persone che comunque ottengono risultati anche non parlando di queste cose però il parlare di relazioni passate è un ottimo modo per ottenere informazioni su di lei informazioni che ti possono far capire con quanta diciamo velocità o rentezza puoi arrivare a un risultato ok non so se lei magari ti dice che ha avuto non so quattro fidanzati tutta la sua vita e magari ha 26 anni e non lo so magari ha avuto quattro relazioni che sono durate tutte e due anni vuol dire questa qua fondamentalmente è sempre stata finanzata diciamo da quando aveva 18 anni a oggi in questo esempio quindi vuol dire che comunque è esperienza non è una che è bloccata col contatto fisico che non ha nessuna esperienza ok quindi le informazioni sulle relazioni vi sono molto utili per tante cose quindi però tutto spiegato nel videocorso poi Anonimo chiede prima vi faccio un sorso intanto se avete domande scrivete le domande condividete la live in basso a sinistra condividi share invitate la gente che è nel gruppo che è a cazzeggiare ciao Stefano ma i commenti si vedono c'è ok allora vediamo vi dico quante ce ne sono ancora di domande allora una due tre tre domande ancora ci sono poi dopo le tre domande se non avete altro chiudo quindi inziate a scriverle inziate a scriverle inziate a scriverle sennò poi dopo queste tre domande chiudiamo allora Anonimo chiede buonasera Luca sono un ragazzo di Pescara la mia città fa 120.000 abitanti non ho città grandi vicino a me poiché in Abruzzo la gente più la città più grande è proprio la mia posso comunque fare dei game anche in una città così piccola o a me è preclusa questa opportunità allora nella tua città puoi poi Fabio leggo la domanda allora nella tua città puoi siccome è 120.000 abitanti è troppo poco per uscire stare in giro magari due o tre ore per approcciare ragazze perché c'è troppo poco flusso lo puoi fare durante la quotidianità ma non diventerai bravo approcciando ragazze solo durante la quotidianità ti serve flusso di persone in giro non puoi non puoi stare nella tua piccola città o non so dove sia a Pescara fra l'altro c'è un ragazzo questo esempio l'ho fatto anche nel videocorso c'è un capitolo che si chiama dove trovare le ragazze che appunto se non sei in una città fertile per praticare non c'è modo bisogna spostarsi spiegato all'interno del videocorso una città buona per approcciare deve avere almeno 250.000 abitanti il che significa che se non siete in una città dove ci sono almeno 250.000 abitanti dovete spostarvi non me ne frega un cazzo che non vi piace bisogna spostarsi lo stesso questa è la dinamica che funziona altrimenti non funziona passerete gli anni tutta la vita a dire continuo a provare faccio un approccio qui un approccio là non fate niente spostatevi quindi tu che vivi a Pescara c'è Roma c'è un ragazzo che ho fatto appunto l'esempio nel videocorso di questo ragazzo che l'ho conosciuto due o tre anni fa e non è nel gruppo magari però segue i video non lo so si chiama Lorenzo se non sbaglio Lorenzo se guardi questi video ciao Lorenzo veniva a Milano praticamente una volta al mese prendeva l'autobus e questo aveva 18 anni quindi lo studente non guadagnava niente quindi se lo faceva un ragazzino di 18 anni che non guadagnava niente chiunque lo può fare è solo che cercate le cose facili ma cercando le cose facili non avrete risultati ok quindi non dovete andare nella città che vi è comoda non cercare la città vicina non cercare la comodità cerca il posto che funziona ok e il posto che funziona di solito non è vicino ok poi chi ha la fortuna di essere già in una città grande va bene però non cercare la città vicina cerca la città che funziona c'è questo ragazzo che si chiama Lorenzo che veniva da Pescara a Milano e si prendeva il Flixbus a 9 euro lo faceva circa una volta al mese e che comunque una volta al mese è poco quindi va fatto almeno un'altra settimana questa cosa lui si prendeva il Flixbus a 9 euro lo prendeva sabato mattina presto si faceva non so quante ore da Pescara fino a Milano poi faceva day game tutto il giorno poi la sera sabato sera andava in discoteca poi non dormiva o forse si non so però non prendeva un alloggio e poi faceva quello che riusciva a fare domenica di approcci per strada e poi domenica pomeriggio se ne tornava indietro a Pescara ok quindi è questione di quanto lo vuoi veramente ottenere non di comodità perché non sarà comodo non sarà facile ok comunque non devi per forza venire a Milano se sei a Pescara c'hai Roma lì di fianco vai da costa da una costa sull'altra costa c'è Roma ok sono cos'è 200 km lo puoi fare magari una volta a settimana lo fai magari per un giorno e vai non so magari ogni sabato poi dipende da quali sono i tuoi impegni vai ogni sabato ti prendi il treno o quello che è vai a Roma ti fai tutta la giornata lì Roma ci sono 2 milioni quasi 3 milioni di abitanti ti fai tutta la giornata lì stai in giro 6 ore 8 ore ti fai tutta la giornata quindi fai 15-20 approcci quello che è già è una quantità sufficiente per praticare e poi dopo la sera te ne torni indietro a Pescara o sennò se vuoi farlo proprio da spartano vai lì tutto il weekend ok facendo così facendo tutto il weekend tutti i weekend è impossibile non migliorare è impossibile non ottenere risultati però assecondiamo la pigrizia quindi è lontano ci vado cerco la città vicina cercando la città vicina però non funziona quindi non ti è preclusa l'opportunità sei tu che ti stai auto-precludendo l'opportunità lo spiegavo lì nella diretta dell'altra volta sull'anno nuovo che la vita non preclude niente a nessuno la vita non regala niente a nessuno anche però non ti preclude niente ogni cosa è a disposizione di qualsiasi idiota che sarebbe da prendere questi sono i requisiti li rispetti ottieni qualcosa poi chi tu sia non è importante ciao Roberto vediamo che dicono le persone allora Fabio vediamo chi dice Fabio allora una domanda particolare quando ci si trova in vacanza in una grossa città che non si conosce minimamente come gestire la logistica di stand date o di appuntamenti bisogna spendere del tempo per studiare nel dettaglio le varie location nelle zone del centro dove si approccia e che siano progressivamente sempre più vicine all'albergo esattamente sì non devi mai andare a caso quindi quando vai in una città in vacanza devi sempre 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 studiare anche la logistica quando sono andato in Polonia per tenere un corso di sette giorni i corsi si fanno a Milano era solo un'eccezione il corso in Polonia i corsi li faccio a Milano il corso che abbiamo fatto in Polonia a Varsavia a settembre se non sbaglio sì a settembre praticamente innanzitutto l'appartamento l'abbiamo preso volutamente vicino alla zona di flusso di persone addirittura era così vicino che quando eravamo in giro per strada se la ragazza magari ci chiedeva dove vivevamo o io o lo studente gli indicavamo il palazzo perché era lì di fianco ok non è a caso la logistica e poi anche le location il siamo arrivati siamo stati lì dieci giorni però il corso è durato sette giorni però i primi giorni ognuno è andato per i cazzi suoi e abbiamo esplorato le varie location dove si può fare un instant date per un caffè la seconda location i posti aperti abbiamo trovato le varie prime location per il instant date abbiamo trovato un po' di Starbucks in giro il Costa Coffee ce ne erano tanti sparsi in giro per la zona lì e poi abbiamo trovato una seconda location che era a un posto che si chiama Sultan Bar se non sbaglio che era aperto 24 ore non c'era tanta gente atmosfera serale c'erano i divanetti perfetto come seconda location aperto 24 ore quindi vi ricordate una location buona deve facilitare il contatto fisico e la comunicazione non c'era tanta gente quindi non c'era rumore la location era molto serale c'erano divanetti quindi si poteva fare contatto fisico aperta sempre 24 ore su 24 è perfetta quindi però non è che l'abbiamo trovata per caso è che abbiamo girato un po' i primi 2-3 giorni e a cercare le varie location quindi quando vai in una città nuova quando vai in vacanza innanzitutto prenditi l'appartamento o l'hotel in base a dove è la zona di flusso di persone e oltretutto io prima di andare lì ho chiesto a chi c'era già stato a Varsavia ho chiesto ma a chi c'è già stato che ha esperienza di day game quindi approcci per strada io ho chiesto ma che zone mi consigli per gli approcci per strada abbiamo detto guarda qua c'è flusso lì c'è flusso c'è il centro commerciale e abbiamo preso l'appartamento lì ok quindi va studiata la logistica non lasciatela al caso perché altrimenti non funziona quindi questa qua è una domanda di Fabio vediamo che dice Gabriele e se in una città grande e se si è in una città grande ma non c'è flusso di ragazze Gabriele a Palermo sì a Palermo cazzo ne so non so e non lo so perché non ci sono mai stato no sì a Palermo ci sono stato però non ho non ci sono stato per fare day game mi sembra strano che non ci sia flusso di ragazze come fanno esserci flusso di ragazze se ci sono un milione passa di abitanti un po' strano cioè se vai nelle zone centrali come fanno esserci flusso di ragazze inventati qualcosa cioè è impossibile se c'è un milione di abitanti è impossibile che non ci sia molto flusso di ragazze magari sei nelle zone sbagliate mi sembra veramente strano che non ci sia il flusso vai nei negozi magari perché fa freddo quando fa freddo chiaramente c'è meno flusso però magari se vai nei negozi puoi farlo nei negozi ok adattati alla situazione trova il modo però con un milione di abitanti adesso non so quanti ne ha Palermo però mi sembra strano che non ci sia flusso ciao Roberto cazzo ti stavo per bloccare Gabriele allora già te l'avevo accennato sostanzialmente nel mio caso il flusso di ragazze ce l'ho all'università ma lì non ci sono location a parte un bar invece in centro ci sono le location ma poco flusso che mi consigli di fare ma seriamente c'è poco flusso secondo me sei te che selezioni troppo perché andi qua a Milano ci sono delle volte ho incontrato alcuni che non conoscevo che stavano facendo dei game e si lamentavano il fatto che non c'era ragazze fighe in giro che non c'era flusso di gente volete capire un test per capire si chiama test di idiozia test dell'idiota ovvero se sentite una persona che vi dice che a Milano non c'è flusso di ragazze quella persona capite che è un idiota chi magari fa dei game delle volte incontro dei ragazzi qua in Duomo che magari stanno facendo dei game da poco e mi dicono che non ci sono ragazze in giro c'è poco flusso questo è il test dell'idiota ovvero persone che idiote perché il flusso di gente c'è a Milano in Duomo porca di una puttana semplicemente che queste persone selezionano troppo quindi escludono tutte le ragazze no quella lì no quella lì no per questo motivo questa qua no per quest'altro motivo e quindi si ritrovano a fare magari un giro a vuoto di due ore tre ore anche io facevo giri a vuoto di due o tre ore ma non dicevo che non c'era flusso e che mi cagavo addosso io da andarci perché le ragazze nel fine settimana non escono sole e allora questa qua ok è vero a parte che se non escono da sole approccia i gruppi da due da tre da quattro ok se agli inizi lo devi fare io adesso lo faccio molto poco i gruppi da due tre quattro perché mi rompo le palle perché preferisco puntare su di stand date è un'interazione lunga però ai tempi facevo forse più approcci di gruppi da due da tre che approccia ragazze da sole quindi se sono in gruppi da due da tre approccia comunque i gruppi da due da tre o se no comunque trova il modo di uscire anche quando sei in in settimana cerca di comunque di trovare un modo per adattarti alla situazione se magari il flusso c'era quando sei in università ok adotta la strategia del ok va bene non faccio gli stand date va benissima è una strategia comunque anche quella su youtube se andate a vedere c'è il mio video si chiama tre strategie per rimorchiare in cui spiego che c'è la strategia del numero c'è gli stand date c'è il portare la ragazza a casa il giorno stesso sono tre strategie diverse e bisogna avere la flessibilità di applicarle all'occorrenza quindi se se c'è tanto flusso quando sei in università ok lì prendi il numero lascia stare gli stand date se c'è possibilità di fare gli stand date va bene vai lì nel bar che c'è se c'è e però poi magari sei consapevole che non puoi fare magari una seconda location perché magari la seconda location è lontana però fa niente ok prendi il numero fai un'interazione magari di un'ora di un stand date e prendi il numero oppure la fai da 10-15 minuti e prendi il numero e punti poi ad andare all'appuntamento se la situazione è questa ti adatti alla situazione quando magari sei in centro e ne incroci una che ti piace e ci vai magari se le cose vanno bene allora sai che puoi fare prima location seconda location e poi magari anche andare a casa quindi adattati alla situazione ok ciao Valerio adesso ho ricominciato a far freddo devo riaccendere il riscaldamento poi allora ci sono altre due domande qui quindi ricordatevi se poi dopo che finisco queste due domande non ce ne sono altre chiudiamo quindi potete scriverle nei commenti le domande Anonimo chiede appena finiamo di leggere Gabriele che dice l'istandate lo posso fare ma poi finisce lì va bene può anche finire lì quantomeno hai preso un numero da un'interazione che magari è durata 30 minuti 40 minuti un'ora un'ora e mezza ok è un numero molto più solido rispetto a prendere un numero da 10-15 minuti come ti ho detto in base alla situazione ognuno fa quello che può fare io quando ero agli inizi appunto che non avevo la casa per portare la ragazza a casa pazienza le portavo in macchina ok me ne perdevo tante perché non avevo la casa pazienza questa è la situazione adesso chiaramente lavora anche per avere a disposizione una situazione favorevole quindi non so magari il trasferirti in una città che ha più flusso però nel frattempo fai il massimo che puoi con quello che hai attualmente quindi un'interazione che comunque dura un'ora e poi prendi il numero va bene comunque prendi il numero è molto più solida se metti che in una settimana fai non so 2-3 interazioni da un'ora e prendi quindi i tre numeri sono molto solidi magari fai anche di questi tre numeri solidi magari fai anche fai due appuntamenti fai due appuntamenti a settimana sono 8 in un mese tanto soprattutto per chi ha gli inizi al massimo potrai rivederla successivamente in 100 per appuntamento sì quello che ti ho appena detto quindi devi crearti il piano logistico a seconda di qual è la situazione ok poi l'ultima cosa mi è venuta in mente su questo discorso se magari appunto ne approcci tante in università e prendi il contatto lì e poi magari la location che è più vicina a casa tua in centro ok prendi il numero lì fai l'appuntamento poi in centro e poi continui da lì col piano logistico però il piano logistico te lo devi disegnare ben chiaro devi sapere qual è il tuo flusso a livello di location cioè devi sapere esattamente cosa segue dopo a livello di location ok quindi per chi vuole approfondire questa cosa qua è spiegata benissimo nel videocorso se non siete iscritti alla lista d'attesa www.approcciala.it c'è un pulsante schiacciate e vi scrivete la lista d'attesa per il videocorso allora Anonimo chiede buonasera Luca come faccio come facciamo a dare un punteggio di bellezza ad una ragazza se la bellezza stessa è soggettiva sì la bellezza è soggettiva ma i casting di Victoria's Secret non sono d'accordo comunque sì ognuno ha la propria scala quindi ognuno si crea la propria scala di bellezza quindi quello che magari per me è un 9 magari per te è un 6 è abbastanza improbabile per me il 9 sono le modelle però per esempio la mia scala è non so dal 6 vuol dire che esteticamente è accettabile la ragazza poi il 7 la classica ragazza bella di corporatura comunque magra poi 8 diciamo le ragazze comunque molto diciamo non dico molto belle comunque diciamo molto ben curate e che però le vedi anche alle ore di personalità sono molto più cazzute ed interessanti 9 sono le modelle e poi 10 sono diciamo le strafighe magari quelle anche ragazze che hanno uno status sociale magari persone importanti magari attrici modelle famose eccetera questa è la mia di scala ok ognuno si crei la sua di scala poi Anonimo chiede ego o autostima troppo spesso vedo persone vedo molte persone confondere le due cose e credo che questa società ci spinga di più verso la prima assolutamente sì assolutamente autostima è una vita diciamo molto più salutare lo sviluppo per autostima perché per tanti discorsi poi in futuro pensavo proprio di fare anche un corso sull'autostima perché ci sono veramente tantissime cose da dire però sì nel momento in cui diciamo sviluppi l'autostima è una vita molto più salutare per il fatto che non sei più dipendente non insegui più il giudizio degli altri e il momento in cui ti stacchi dal giudizio degli altri non sei più diciamo a cercare l'approvazione degli altri è una vita veramente molto molto più spensierata serena e salutare c'è un benessere di sottofondo che è veramente molto molto alto ok però secondo me nella mia esperienza una componente di ego che poi ci sono anche varie definizioni di ego quindi è un tema parecchio lungo una componente di ego secondo me rimane comunque ma quantomeno impari a diciamo accettarla e non vederla come una cosa negativa ok all'essere ok con te stesso che magari fai un qualcosa per ego ok io per esempio volevo fare un evento al vivo un seminario non so magari mettere 20 30 40 persone in sala e farlo così non c'è un motivo particolare senza nessun motivo particolare poi magari lo farò molto più avanti comunque fondamentalmente adesso non serve non serve però mi piace mettere la gente in sala e parlare davanti al pubblico però se mi chiedi perché non c'è un perché perché per ego ok però essere ok con questa cosa qua che non c'è niente di male che va bene te lo fa vivere in maniera molto più salutare se invece lo vedi no l'ego è il nemico lo vivi in maniera diciamo non so come dire io quando ero inizi mi ero messo in testa che diciamo ricevere l'approvazione della ragazza era una cosa negativa che da una parte è vero che essere dipendente dall'approvazione della ragazza è una cosa negativa ma quantomeno io cercavo diciamo proprio eliminare il piacere dall'approvazione della ragazza che è una cosa che poi me lo faceva vivere in maniera molto stressante il game cioè va bene che una ragazza ti dia approvazione va bene sentirsi bene quando magari una ragazza ti fa dei complimenti magari ottieni un risultato eccetera ok però quantomeno non esserne dipendente è un discorso lunghissimo per quello pensavo di farci un corso però molto più avanti allora ciao Marco ciao Savino ciao Alin allora quanto è importante Hermes chiede quanto è importante per te l'inner game e il letting go nel game allora l'inner game ognuno cioè in realtà non so benissimo quale sia la definizione ufficiale di inner game quindi non ti so dire però sicuramente è molto importante diciamo potremmo vederlo il discorso di sicurezza interiore il discorso di mentalità ecco spiegami tu cosa intendi per inner game perché è una definizione molto diciamo molto soggettiva ognuno gli dà la propria interpretazione quindi per quello io non ho una definizione ufficiale perché ognuno gli dà la propria interpretazione quindi scrivimi cosa intendi tu per inner game e il letting go nel game io innanzitutto non uso mai quella parola perché ti spiego il perché non uso quella parola perché poi le persone che iniziano a studiare i concetti di gestione delle emozioni tendono poi a diventare diciamo dei santoni che rimangono in casa e non escono più a approcciare le ragazze con il fatto che no devo liberarmi delle mie emozioni negative devo fare la meditazione eccetera che va bene ok la cosa che io faccio a fare nei corsi su come si rimuove definitivamente l'ansia e approccio è esattamente quello cose sulla gestione delle emozioni però è un lavoro sul campo il lavoro che fai a casa sul letting go che mi fermo qua poi non chiedetemi più di questo argomento perché cioè potete chiedermi però io sono molto restio nell'usare quella parola perché quella parola poi viene associata a chiudersi in casa e fare la meditazione di entrare di santoni e poi non si riesce più a praticare e sai quanti novisti che iniziano il percorso del game per appunto migliorarsi con le ragazze e finiscono poi per rinchiudersi in casa fare le meditazioni senza più praticare e migliorare con le ragazze ok perché si cade poi nella trappola del adesso faccio solo la meditazione eccetera che va bene non lo sto denigrando ma è una trappola nella quale cadono un sacco di persone ok quindi è una parte importante per liberarsi delle emozioni negative anzi ti direi una parte fondamentale solo che viene mal interpretata ovvero adesso mi chiudo in casa e faccio la meditazione non diventerai bravo con le ragazze rinchiudendoti in casa a fare la meditazione ok la componente su come ci si libera dell'emozione è importantissima e appunto la insegno nei corsi al vivo chi ha fatto i corsi al vivo lo sa il procedimento su come si va a rimuovere l'emozione di paura è quello solo che non lo spiego usando quella parola perché poi la gente magari va a cercarsi quella parola adesso non andate a cercare quella parola perché poi c'è il rischio di cadere nella trappola di adesso faccio solo il processo di far uscire l'emozione a casa e poi dopo non si esce più non si fa più niente e non si migliora più con le ragazze quindi l'inner game è importantissimo però non dimmi te qual è la tua definizione di inner game però è importantissimo a livello diciamo di anche quanto sai di mentalità di quanto sai resistere magari senza ottenere risultati sapendo che però se continui se continua a correggerti iniziano ad arrivare risultati quello là è inner game è diciamo una resistenza interiore mentalità di successo e dipende da qual è la tua definizione se mi dici qual è la tua definizione di inner game ti posso rispondere in maniera molto più specifica allora vediamo che dice Valerio allora ma innanzitutto Valerio non ti ho mai visto in Greta sei per caso nuovo rispondimi allora ciao cambio argomento secondo te è accettabile che al primo puntamento le faccia delle scenate di gelosia o battute per testare le reazioni di lui o è patetica dato che al primo puntamento secondo me bisognerebbe conoscersi e trovarsi la rileggo perché non ho capito secondo te è accettabile che al primo puntamento le faccia scenate di gelosia o battute per testare le reazioni di lui o è patetica scenate di gelosia in che senso scenate di gelosia si più specifico magari un test scenate di gelosia o battute per testare sì ma in realtà non è una cosa assurda cioè dovete le donne vanno capite non vanno diciamo giudicate è patetica che cazzo sta facendo se diciamo è una dinamica del suo comportamento se è una dinamica del comportamento delle donne il fatto che per esempio le donne testano ok quindi quella cosa non dovete vederla come sono delle bastarde ma perché si comporta così è semplicemente una dinamica nel momento in cui una ragazza è interessata ti testa ti mette alla prova ok quindi è una cosa positiva che la ragazza ti metta di fronte a dei test poi soprattutto se è al primo puntamento vuol dire che se lei è venuta a un primo puntamento vuol dire che è interessata altrimenti non ci sarebbe venuta soprattutto quando approcciate una ragazza dal vivo e poi la rivedete per un puntamento se la approcciate in chat e poi la rivedete lì diciamo è più che altro incuriosita non è ancora interessata quindi il fatto che ti faccia delle scenate in gelosia o magari ti fa qualcosa per vedere come reagisci tu in realtà poi dipende da che cos'è da cosa fai esattamente se magari sei più specifico ti posso rispondere in maniera più specifica però se magari lei ti mette alla prova per vedere come reagisci tu quello si chiama test si chiama test di congruenza diciamo in gergo tecnico si chiamano shit test ma vanno bene sono cose che la ragazza fa perché tu stai presentando una versione di te stesso attraente quindi lei ti mette alla prova per vedere se la versione di te stesso che stai presentando è vera oppure stai fingendo perché fondamentalmente non ci vuole molto a fingere magari un comportamento attraente per 5 minuti 10 minuti i primi 15 minuti interazione per strada poi la rivede l'appuntamento lei vuole veramente vedere se la versione attraente che stai presentando è vera oppure è finta quindi ti mette alla prova ti mette di fronte a dei comportamenti che magari potrebbero apparire strani potrebbe essere magari un po' stronza mi ricordo di una ragazza ti faccio ben capire questo discorso qua una ragazza molto molto figa una modella russa con la quale sono uscito un paio d'anni fa che eravamo al secondo appuntamento lei mi aveva già portato a casa sua al primo appuntamento quindi la cosa a livello logico da uomo non ha alcun senso però nella logica femminile si si chiama test e quindi al secondo appuntamento nonostante mi avessi già portato a casa sua al primo appuntamento al secondo appuntamento mi diceva siccome lei sapeva che io insegnavo a conoscere ragazze mi diceva non capisco come fai a insegnare gli altri se neanche tu sei capace di parlare con me e tu ti dici ma cioè sul momento lo accusi anche come colpo perché dici cazzo è una strafiga lo accusi anche come colpo però poi ti rendi conto che siete al secondo appuntamento e ti ha già portato a casa sua al primo appuntamento quindi sono dei test che lei fa per vedere se sei veramente come sei siccome con le ragazze molto belle devi essere veramente molto molto sicuro di te stesso lei ti mette quello era un test per vedere se effettivamente ero così ero veramente sicuro di me stesso oppure stavo stavo facendo finta quindi ti mette magari una frase molto stronza molto pesante per vedere se veramente sei così i test così pesanti arrivano con le ragazze molto molto belle le ragazze diciamo più normali non ti fanno test così pesanti ok allora tipo una commessa per come si è posta con me una commessa ah ok ho capito ok ho capito ho capito ho capito si fa scenate di gelosia e niente dipende se è veramente se è una psicopatica che fa scenate perché guardi una ragazza io ti consiglio di di lasciare stare di di tagliare però dipende anche a che punto sei diciamo nel percorso di miglioramento se se sei inizi ti consiglio di andare avanti comunque con questa ragazza per accumulare più esperienza possibile poi dopo quando sei più esperto allora dici ok cioè per se fossi io cioè se una mi fa una scenata perché magari guardo una ciao anche perché è nella è nella natura umana cioè scusate nella natura dell'uomo il guardare altre ragazze nonostante magari uno sia anche fidanzato sposato eccetera proprio nella natura dell'uomo gli uomini hanno esattamente 40 volte il testosterone di una donna quindi è proprio scientificamente provato che l'uomo pensa adesso non mi ricordo i dati precisi però l'uomo pensa tipo costantemente quasi costantemente al sesso una donna 40 volte in meno quindi l'occhio proprio l'occhio dell'uomo finisce molto facilmente su 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 tette o culo oppure su una donna magari molto vistosa o pariscente non a caso le pubblicità lo sanno quindi le pubblicità ti fanno le pubblicità con i cartelloni con le donne strafighe non con l'uomo strafigo ok perché sanno che l'uomo sull'uomo fa molto presa questa cosa ok per se ti ricordi che all'accademia della vita c'era quell'esempio che faceva che faceva Carlos su questo video qua su quello c'era un pilota di rally di formula 1 non so che stava guidando una macchina tipo a 200 all'ora e che stava anche vincendo era in testa e c'è una donna che alza il vestito e fa vedere le tette e questo qua che sta guidando da 200 all'ora sta guidando da 200 all'ora sta vincendo però l'occhio finisce automatico sulle tette ok e è andato fuori strada sbandato è uscito fuori strada e è perso ok quindi finisce in maniera automatica fateci caso adesso che ve l'ho detto questa cosa fateci caso quando andate attraverso le vostre giornate l'occhio vi finisce automaticamente sui cartelloni sulle ragazze senza pensarci quindi è proprio nella natura dell'uomo solo che le ragazze non lo sanno ah bastardo porco no è la natura dell'uomo quindi questo era il discorso allora Hermes dice con inner game intendo appunto lavorare più su se stessi acquisire consapevolezza e sicurezza dell'interno piuttosto che lavorare su tecniche esterne outer game inoltre sul controllo delle emozioni meditazioni ti do ragione è utile ma bisogna poterlo fare con le giuste misure sto prendendo in considerazione e approfondire queste tematiche recentemente ok approfondisci però ricordati non sono o faccio una cosa o faccio l'altra sono due cose che vanno insieme ok quindi sì la parte diciamo di sicurezza interiore è molto importante ok la sicurezza interiore poi sorregge tutte diciamo le parti diciamo tutta la parte tecnica ovvero diciamo della frase di apertura perché tu puoi sapere come approcciare una ragazza diciamo puoi sapere che cosa le devi dire in apertura puoi sapere magari come portare avanti la conversazione ma se di base lo fai in maniera insicura e titubante non funziona molto la sicurezza è una caratteristica attraente per una ragazza l'attrazione viene generata principalmente tramite caratteristica non principalmente viene generata tramite caratteristiche comportamentali la sicurezza interiore è una di queste ok quindi è importantissimo perché se no agirai sempre in maniera e se vuoi potremmo scambiarci il numero quindi sì sorregge tutto non ti so dire in percentuale no in percentuale penso penso che sia sì ti posso dire che è più importante della parte tecnica però la parte tecnica è comunque una parte per esempio se non sai come spostarla da una location all'altra se non sai diciamo tutte diciamo le fasi di escalation fisica se non sai come fare un invito ti manca comunque il pezzo per arrivare a chiudere quindi comunque è tutto ti serve tutto il cento per cento però ti direi sì è più importante la parte diciamo di diciamo interiore rispetto alle tecniche ciao ok quindi signori non ci sono altre domande sembrerebbe sembrerebbe che non ci sono altre domande neanche qui ci sono altre domande siamo da un'ora e 08 quindi signori se avete domande scrivete e se no se no finisce qui io intanto magari faccio le solite diciamo robe di di chiusura e poi intanto se avete domande iniziate a scriverle poi rispondo alle domande che scrivete quindi se avete amici che possono essere interessati a questi contenuti invitateli al gruppo quindi c'è il tasto per invitarli al gruppo se guardate da youtube dalla pagina facebook condividete questo video col genere umano e per chi fosse interessato ai corsi dal vivo i corsi al vivo saranno disponibili ancora non per tantissimo tempo ci saranno poi dopo che uscirà il videocorso ci saranno ancora i corsi al vivo però ne farò molti di meno ok li farò anche poi solo nei periodi caldi dell'anno quindi chi non ha ancora fatto che corsi al vivo ed è lì ci sta pensando io consiglio di affrettarsi perché poi saranno molto poco disponibili i corsi al vivo e come ho detto a marzo 2020 uscirà il mio videocorso che si chiamerà dall'approccio al sesso e che insegnerà guarda caso dall'approccio al sesso altrimenti l'ho richiamato in altro modo io dico marzo del 2020 però potrebbe essere prima come potrebbe essere dopo quindi per essere aggiornati su questi dettagli iscrivetevi alla lista d'attesa andate sul sito www.approcciala.it c'è un tasto per iscriversi alla lista d'attesa in modo che venite notificati quando esce il videocorso poiché verrà fatta un'offerta speciale per la prima settimana in cui sarà disponibile il videocorso lo potrete acquistare praticamente alla metà del prezzo ok se invece non siete iscritti alla lista d'attesa poi magari vi perdete l'annuncio arrivate una settimana dopo e vi perdete il prezzo di mezzato quindi comunque tutte le informazioni sono sul sito www.approcciala.it se avete domande dubbi esistenziali potete scrivere all'assistenza clienti domande sui corsi non domande su come si sono estinti i dinosauri qual è il senso della vita ok se avete domande sui corsi potete scrivere all'assistenza clienti via whatsapp il numero è 351 646 6774 per chi guarda da youtube lo trovate anche nella descrizione del video quindi queste qua erano le cose da dire allora Fabio chiede curiosità come hai risposto a quella ragazza che al secondo appuntamento in casa sua ti ha fatto quel test scomodo non mi ricordo perché comunque era un paio d'anni fa però come spiego appunto nel videocorso sulla lezione riguardo ai test non è importante quello che gli rispondi a livello verbale è importante quanto reagisci internamente ok se internamente la cosa non ti tocca semplicemente test passato se invece vede che accusi il colpo e lì il test viene fallito poi quello che rispondi verbalmente non conta ok poi ci sono comunque diciamo tre modi per rispondere a livello verbale sono spiegati nel videocorso c'è il no beh non ve li dico perché sono spiegati nel videocorso però ci sono tre modi per rispondere a livello verbale ai test però fondamentalmente non è tanto come le rispondi a livello verbale è quanto la cosa ti tocca internamente ok se lei vede che vai in panico oppure magari ti arrabbi reagisci e le dici ah ma cosa intendi ma eccetera se lei vede che la cosa ti ha toccato internamente lì il test l'hai fallito se invece vede che semplicemente ti scivola addosso che non ti tocca lei vede appunto che veramente sei solido internamente se invece vai in panico arrossisci ti giustifichi eccetera non funziona quindi non è tanto come le rispondi a livello verbale per questo non me lo ricordo poi vabbè come ti ho detto è un paio di anni fa quindi ci potrebbe anche stare che non me lo ricordo però come ti ho detto non è come le rispondi a livello verbale è quanto il test ti tocca internamente ok mi ricordo quando ero agli inizi quando le ragazze mi dicevano che erano fidanzate che anche quella è un test che magari me lo dicevano dopo dieci minuti di conversazione mi ricordo proprio che sentivo una fitta nel pet e dicevo porca traia e adesso adesso semplicemente non mi toccano più non li vedo neanche ecco questo qua è un buon indicatore per vedere quando diciamo sei diventato non reattivo ai test ovvero che non li vedi semplicemente ti scivolano addosso non li vedi più e vedi solo quelli pesanti ok quindi questo qua è il discorso dai se avete domande potete fare se no le chiudiamo qua